2019, finale di Coppa Italia, Toshul contro Irado. Ai d'ordini dell'arbitro Antonio Mangione della sezione di Napoli, lo ringraziamo, un applauso per lui. Grazie a tutti, con il numero 91 Antonio Baghera, la frantera a morirlo, con il numero 4 Giovanni Pinguino e Lu Campolazzano, con il numero 7 Leonardo Enfernera Marotta, con il numero 11 Luigi Enfiedere Puerco, con il numero 15 Luca Gabbiano Pareto, con il numero 8 Tiziano Dolphin Marano e con il numero 9 Tommaso El Falco, il capitano Campolazzano. Di Rado, con il numero 1 Luca Drago Paisano, numero 2 Gianni Quintinino, numero 15 Salvatore Gengis Canna, con il numero 3 Michele Vichy Watch Maragioti, numero 8 Daniele Latolio Tenerico, numero 7 Francesco Rapper, Cappello Di Paglia, capitano Decorato, numero 21 Michelangelo Carpari Coraggine, con il numero 10 Fuoriclasse, Riusci, Oriente Express, di Ossina, e con il numero 66 Unì, impronunciabile Marcello An-Nasli Salah al-Yusuf Ibn Ayub Lavatouz. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti. Un po' saluto a tutti e che viva il migliore. Un po' saluto a tutti. Un po' saluto a tutti. Grazie. 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 Grazie.